in questo video presentiamo questo lettore della custom un lettore 2d sm 420 molto veloce nelle sue performance ha una capacità di lettura veramente eccezionale sia sui codici monodimensionali ma anche sui codici bidimensionali se lo andiamo a vedere l'azione come vedete è estremamente veloce nelle sue letture prendiamo anche altri codici a barre quindi legge benissimo andiamo anche a prendere dei codici a barre un po più piccoli il appuntamento ci aiuta a leggere la stringa coperta anche quando i codici sono ravvicinati come in questo caso può capitare anche che i codici siano spesso incelofanati sotto magari delle buste di plastica quindi andiamo a vedere la lettura anche in condizioni non agevoli quando il codice non è perfetto come vedete se gli passo una busta davanti continua a leggere perfettamente anche con una superficie che riflette è un lettore estremamente performante eccezionale nelle sue letture molto veloce ma anche con un prezzo contenuto quindi se vi interessa una soluzione di lettura per le vostre applicazioni potete contattarci ai nostri riferimenti